Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Valencia Intimone, attualmente sul nuovo gioco Goal All Out Come vedete, allora Il più grande cast di eroi e antagonisti di mondi, giochi, film e persino fumetti diversi è stato convocato per un faccia a faccia Iniziamo a combattere pesantemente Allora, il gioco lo trovate su Steam a 10,79€ ragazzi, è una specie di... Come si chiama quello per Nintendo? Vabbò, adesso non te lo vedete com'è E' comunque una specie di... Mi venisse il nome, sarebbe molto divertente Allora, Local Play Game Store Customize Option A parte che... Non penso che ci sia neanche sette opzioni da vedere Sì, infatti Allora Il gioco è direttamente di giocare Allora, Local Play però Intanto Climb Arcade Classic, dai Eh, ok Fichi Dai, Yandere Chan Start Ok Vediamo un po' Com'è 3, 2, 1 Fight Sì, se mi dici provo come si attacca Ok, così Ma Sì, ma Scusate Ah, così Tipo quella picchia duro però Cercavano di capire perché non attacca come... Uh, ok Che volano troppo, vola Il nemico, cioè... Aia, mi fa male Cioè, quando schiacci questo in automatico ti vola il personaggio Vabbè che è il primo livello, quindi, ok Quello lì Quello lì che cazzarola è? Cos'è questo? Cosa cazzarola è che ho rilasciato lì? Ah, l'ha preso lui, l'ha preso cazzarola Sì, ma Ok Ah, l'ha Perché c'è un pollo lì così? Fammi prendere... Fammi prendere quel pollo, voglio il pollo Ecco 2 Non mi sta sconfitterando molto, sono sincero, ragazzi Pensavo fosse molto più carino Cioè, proprio... O forse è il personaggio, adesso vediamo un secondo Cioè, magari lo cambiamo, vediamo un po' Potrebbe anche essere il personaggio Aspetta Cioè, tipo... Vabbè Ok Quindi è solamente un combattimento Si ringrada Durante livello 1 Ok, continua La seconda Oddio, ma ce ne sono più di una adesso Perché c'è un pollo? Perché c'è un pollo? Perché c'è un pollo? È un pollo, vero? No, è un sacco di farina Che cazzo c'è fa un sacco di farina? Riuscisse a prendere il potere, pazzola Prendoli, prendoli E... Calma No, 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 no Ecco due No, 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 no Ecco due Ma... Ecco qua Sì, sto cercando di capire Vi giuro come cazzo giocare ragazzi Sono sincera E... Bah Non mi... Ribadisco Non mi sconfiffera molto Sto gioco C'è un po' strano Tutto quello che vuoi Ho vinto il nuovo io Ok Però non mi sconfiffera molto Pensavo fosse... Quando l'ho preso Lo pensavo fosse tantissimo Come... Quello che c'è... Vi giuro, mi viene il cacchio di nome Di quello che c'è su Nintendo Che c'è anche tutti i personaggi Di Final Fantasy Di... E intanto mentre... Guarda Non voglio cercarmi Come cazzo la si chiama Perché mi fa dire i coglioni Quando mi viene una parola Aspetta Arrivo, arrivo, arrivo Aspetta, aspetta Ma... Sono tutti uccisi Ok Gravissima Stiamo sotto a posto sta gente Guarda che bello Quando faccio sto attacco E c'è un bopo Sto attacco qua Quando puliamo Vai Uh Vai Oddio bellissima sta cosa Ma perché c'è anche Zorro? Cioè è quello che non capisco Perché c'è anche Zorro Guarda Guarda come si minano Come se non ci fosse un domani Smash Bros Ecco porco giudice Che non mi veniva il nome È possibile che non mi vengano i nomi Ma ogni volta È una Smash Bros Ecco cosa volevo dire Ahia Ma è detto se non suona Sto attacco Ho avuto una via Ma non posso fare tipo una mossa Uh Finissimo Ho fatto un calcio Io mi ribadisco che non capisco Che cazzo sia quel sacco Posso aver tenuto i punti Non lo so Guarda 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 Bella Venite qua Bella Bellissima sta E guarda Vi giuro Non so assolutamente Che cazzo Devo fare No Sono morto male Sì Che però Non pappaccano Qui non mi appisco Basta Le buttate più giù Via 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 Che devo pulire Che cazzo Le musiche Sono bellissime Però Però con smash brush Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Proprio C'è nel senso Pensavo fosse molto più carina Ma invece Bah Non c'è tipo una super mossa Che posso fare Perché vedo che c'è tipo Un affare Un Come sto parlando bene in sto video Mamma mia ragazzi C'è una barra che ho visto che è diventata livello 6 Quindi Non ho capito Ho vinto o falso 25 punches 12 11 9 Quindi ho vinto io Va bene Calamity Cioè ci abbiamo Contro Cioè un raptor No scusate ragazzi Non sto rimando nel libito Su che cazzo c'è in questo gioco A livello di cose Cioè E' quello che mi lascia nel libito Molto Va bene Sono sincero Boh Non mi dice niente Posso essere Proprio Palesemente sincero Non mi striceva niente Sto gioco Non mi striceva niente Cioè Pensavo fosse un picchiaduro Un po' vecchio stile Eccetera Che ok Ci sta sempre Forse ho preso l'oggetto che c'è Aspetta Vediamo Adesso per caso Prendi Di nuovo No Prendi Uh Niente Non riesce a Bah Bah ragazzi Bah Cioè Sbashuross dicono Io non ho mai giocato Però dicono che sia veramente Molto più figo Di questo E bah Non mi dice veramente niente Ok magari ho preso il personaggio sbagliato Ci può anche stare Probabilmente Perché nel senso ci può anche stare Sta cosa qua Perché ho preso il personaggio sbagliato Però Sono morto Non c'è Però Boh Non mi dice un pif Però Sono sincero Comunque il gioco l'ho trovata 10 euro Come vedete 10,79 Su Su Steam Se per caso vi ispira È uno smash bros Per steam Praticamente Però con Boh Non so Non so anche come dirvi Se Però Uno smash bros Per steam Non smash bros Possiamo dirlo così Non mi ispira ragazzi Sono sincero Vabbè ragazzi Spero vi sia comunque piaciuto La partita Ci vediamo alla prossima Sempre qua Se ve ne sentivo Mi raccomando Mettete un mi piace Iscrivetevi alla prossima Ciao belli